Il rispetto del patto di stabilità per il Comune di Sanremo arriverà dalla vendita dell'ex tribunale e da parte dell'anticipo Rai. La strategia è stata annunciata dal sindaco Alberto Biancheri che ha confermato che per rientrare nei parametri servirebbero oltre agli 8 milioni derivanti dalla vendita dell'ex tribunale altri 2 milioni e mezzo di euro. Per questo è stato approvato un apposito emendamento con cui il Consiglio Comunale ha già autorizzato il sindaco a procedere in tal senso per ricevere in anticipo già metà del compenso della Rai per il festival del prossimo anno. Con questo emendamento riscontrata la disponibilità della Rai di anticipare la quota del 2016 e la necessità di incassare la somma entro il 31 dicembre, ha detto il capogruppo di Sanremo al centro, Alessandro Sindoni, si vuole incaricare il sindaco e la giunta di adottare tutti gli atti necessari con la Rai per ricevere un adeguato anticipo del corrispettivo 2016 in modo da consentire il rispetto del patto di stabilità autorizzandone già l'eventuale necessaria fideiussione. Sottolineo la parola adeguato, prosegue Sindoni, perché non servirebbe neanche tutto e questo sarebbe una novità rispetto al passato. Il rischio di sforare il patto è dietro l'angolo, sono però convinto che con i rapporti che il sindaco si è costruito ce la farà. L'emendamento è stato approvato con i soli voti della maggioranza, l'opposizione si è infatti schierata contro, affermando che era slegato dalla pratica dell'ex tribunale. Sembra che il nome del patto di stabilità qui diventi tutto lecito, ha infatti detto Paola Arrigoni del Movimento 5 Stelle. Ora si attendono notizie dalla RAI che potrebbero già arrivare nelle prossime ore.